Siamo sempre più circondati da dispositivi smart e di pari passo dunque aumentano anche le minacce informatiche. Quali sono quelle più temibili del momento? Il Ransomware as a Service. Ad esempio, il virus CryptoLocker rende illegibili i file di un utente finché non viene pagato un riscatto. Nel Ransomware as a Service anche le persone meno esperte di tecnologia possono ricartare qualcuno. Sono degli hacker a fornire questo specifico servizio. I deepfake sono minacce informatiche basate sulla creazione di video o immagini fasulle ma molto realistiche. Si potrebbe girare il video di qualcuno che fa una rapina per poi sostituirne il volto con quello di una vittima. Gli attacchi contro l'intelligenza artificiale possono ad esempio influenzare il riconoscimento facciale o vocale e il possibile hackeraggio di sistemi Internet of Things. I dispositivi intelligenti quali i router, i sensori o le videocamere di sorveglianza sono un ottimo obiettivo per dei cybercriminali che potrebbero ad esempio hackerarti la webcam per riprenderti e chiederti successivamente un riscatto. Rapposa Grazieanced Ma Rapposa Dimensi Grazie La